Sta comprando pellet, signora? Sì, sto cercando di comprare pellet a un prezzo adeguato, perché non si trova. 8,99 euro, erano rimasti 39 sacchi, li ho presi tutti. Però non è facile, perché hanno chiesto 12, 14, 11. La guerra in Ucraina, l'imbargo su Russia e Bielorussia, la dipendenza dell'Italia, gli approvvigionamenti esteri, così si spiegherebbe il rialzo del prezzo del pellet. L'estate è il periodo dell'anno in cui normalmente i consumatori facevano scorta di materiale, ma gli stessi rivenditori stanno incontrando molte difficoltà. Molti clienti finali non sanno che purtroppo il 40-50% del materiale per fare il pellet proviene dalla Russia e Bielorussia, in tutta Europa. Quindi questo indotto purtroppo da questa, diciamo così, problematica mondiale che si è venuta a creare da 4-5 mesi, essendo le frontiere tutte chiuse, ecco dove sta il problema maggiore. Poi ovviamente incide tanto il costo dell'energia, perché comunque chi produce il pellet ha a che fare con l'energia elettrica. I trasporti sono raddoppiati, ecco dove, diciamo così, va a incidere il costo del pellet. Quindi oltre che avere, diciamo così, meno disponibilità di prodotto, perché a settembre, ottobre, novembre avremo dei grossissimi problemi perché non troveremo il pellet. Perché comunque il 40-50% del materiale non lo avremo. E questo è una situazione veramente grave. Poi, non lo so, dovrebbe intervenire un pochino anche il governo, perché comunque l'IVA al 22% nel pellet è veramente grave. Siccome è un bene di consumo, diciamo così, a livello, sì, primario, come il gas, come il metano, eccetera, visto che hanno agevolato le utenze di gas, eccetera, bisognerebbe che interverissero agevolando l'IVA anche nel pellet. C'è differenza tra il pellet che arriva dall'America, dalla Spagna, piuttosto che dai paesi, che diceva lei? Allora, la provenienza del pellet dall'America, in particolar modo, anche se costa un attimino o meno, magari ci sarà differenza di un euro, il problema è che non è certificato. Almeno, per quanto ne so io, diciamo il produttore da cui noi ci approvvigioniamo, questo ci ha riferito. E poi c'è il rischio, alcuni cittadini, c'è stato un caso anche ad Arezzo, di comprarlo online, ma lì è difficile verificare chi lo vende, no? Questo è un danno, io dico sempre ai miei clienti, ma anche non clienti, di diffidare da queste cose, perché se un pellet oggi costa dai 9,80 ai 10, 11, 12, ma andrà anche più in alto, e su internet lo trovano a 5 euro, io mi farei anche una domanda.